La profilassi preesposizione o PrEP è una modalità per prevenire l'HIV in cui una persona sieronegativa prende una pillola al giorno per ridurre il rischio di contrarre l'HIV. È importante notare che la PrEP non è la stessa cosa della PEP o profilassi postesposizione che è un regime di trattamento della durata di un mese dato entro 72 ore dopo una esposizione all'HIV per evitare che l'infezione si stabilisca. L'unico farmaco attualmente approvato per la PrEP è il Truvada, una combinazione di due farmaci che blocca un enzima dell'HIV chiamato trascrittasi inversa. L'HIV ha bisogno di questo enzima per fare nuove copie di se stesso, perciò Truvada impedisce all'HIV di moltiplicarsi e di stabilire l'infezione nell'organismo. La PrEP blocca un enzima dell'HIV, quindi può proteggere solo dall'infezione d'HIV ma non da altre infezioni sessualmente trasmesse o dalla gravidanza. Per questo le persone che prendono la PrEP dovrebbero fare regolarmente anche un test per l'HIV per assicurarsi di non essere stati infettati recentemente e anche un test per le infezioni sessualmente trasmesse che, se necessario, devono essere trattate. La PrEP si è dimostrata efficace nel ridurre il rischio di infezione d'HIV negli uomini omo e bisessuali, nelle donne transgender e negli uomini e donne eterosessuali, così come nelle persone che si iniettano droghe. La PrEP non tratta l'HIV, è pensata per prevenire l'HIV dallo stabilire l'infezione, perciò non dovrebbe essere assunta da qualcuno che ha già l'HIV. Le persone che desiderano cominciare la PrEP dovrebbero prima farsi testare per l'infezione d'HIV. Negli ultimi anni molti giornali hanno parlato della PrEP dando messaggi a volte non chiari. Esaminiamo tre miti o convinzioni comuni sulla PrEP e vediamo come stanno realmente le cose. Mito numero uno. La PrEP non funziona. Nel grande studio sulla PrEP chiamato iPrex, condotto in uomini gay e donne transgender, i ricercatori hanno osservato una riduzione del 42% nella trasmissione dell'infezione. Tuttavia, quando sono andati a guardare i livelli di Truvada nel sangue, hanno scoperto che per le persone che prendevano almeno 4 pillole alla settimana, la protezione era circa del 96%. Tra quelli che la prendevano come prescritto, la protezione era stimata a più del 99%. Perciò il messaggio fondamentale è la PrEP funziona se la prendi come prescritto, ogni giorno. Mito numero due. La PrEP provoca effetti collaterali. Alcune persone negli studi sulla PrEP hanno riferito effetti collaterali come nausea, mal di testa o perdi da ripeso nelle prime settimane di assunzione della PrEP. La maggior parte di questi effetti collaterali andava via da sola o quando la PrEP veniva interrotta, ma la maggioranza delle persone non aveva nessun effetto collaterale. Per esempio, in uno studio clinico ci sono stati 22 casi di nausea tra le 1.251 persone che assumevano la PrEP in un periodo di tempo di più di due anni. Altre analisi recenti hanno mostrato che chi prende la PrEP potrebbe avere un leggero innalzamento della creatinina nel sangue, un indicatore della funzione dei reni, ma questi livelli tornano alla normalità dopo aver interrotto la PrEP. Per sicurezza le persone che prendono la PrEP dovrebbero controllare regolarmente la funzionalità renale. Una ulteriore analisi ha mostrato una piccola perdita nella densità minerale ossea nei partecipanti a uno studio che prendevano la PrEP, ma questa perdita non peggiora con l'andare del tempo. Il Trovada è stato scelto per l'uso come PrEP anche perché è sicuro e ben tollerato. Come la maggior parte dei farmaci sono possibili effetti collaterali, non gravi. Ma, ripetiamo, gli effetti collaterali riportati con la PrEP scomparivano con il passare del tempo o quando veniva interrotta la PrEP. Al momento sono in sperimentazione altri farmaci che potrebbero presentare ancora meno effetti collaterali. Mito numero 3. È impossibile ottenere la PrEP. Negli USA la PrEP può essere prescritta dai medici, infermieri e assistenti e anche molte assicurazioni sanitarie la rimborsano. Senza assicurazione il Trovada per PrEP può costare fino a 1800 dollari al mese, ma sono poche le persone che pagano davvero il prezzo pieno. Ci sono programmi di supporto alla medicazione realizzati da Gilead Sciences che possono riuscire a coprire parte o tutti i costi della PrEP nel caso non si abbia un'assicurazione. Occorre tenere presente che, a seconda della modalità di accesso della PrEP, ci possono volere diverse settimane per avere la prima prescrizione. Naturalmente la PrEP non è l'unico modo per prevenire l'infezione da HIV. Se usati correttamente e costantemente, i preservativi sono uno strumento importantissimo per ridurre il rischio di contrarre l'HIV e anche altre infezioni e la gravidanza. Per coloro che non usano i preservativi tutte le volte che fanno sesso, la PrEP fornisce una protezione efficace contro l'HIV. La scelta di usare la PrEP, così come quella di usare i preservativi, è personale. Ciò che conta è trovare una strategia di prevenzione che funzioni per te. Questo video è stato realizzato per voi da Eureka Science in collaborazione con Beta della San Francisco AIDS Foundation. Per maggiori informazioni sul trattamento e la prevenzione dell'HIV visita betablog.org. Grazie dell'attenzione.